E' uno dei volti noti della televisione italiana e allo stesso tempo un simbolo di Andriesi Tà. Francesco Giorgino, giornalista, conduttore del Tg1 e docente universitario. Alle spalle una lunga carriera nel mondo dell'informazione, cominciata proprio dalla nostra emittente. E' tornato nella sua città, come fa spesso appena ne ha l'opportunità, per presentare il suo nuovo libro dal titolo Alto Volume, un'analisi della relazione sempre più stretta che lega politica, marketing e comunicazione. Un aspetto che caratterizza la società degli ultimi anni, nell'era del populismo e del sovranismo, nell'era del digitale e dei social network, sta prendendo forma un nuovo modo di fare politica per la conquista ma anche per la gestione del consenso. Viviamo in pieno la trasformazione digitale, questo ha avuto delle ricadute non soltanto nell'andamento complessivo delle dinamiche macro-sociali ma anche nelle dinamiche politiche. E in questo libro che ho voluto intitolare Alto Volume e che ha come sottotitolo Politica, Comunicazione e Marketing, io provo a raccontare il processo di trasformazione della politica in comunicazione e in marketing con tutto ciò che ne consegue, quindi mettendo in evidenza luci e ombre. Le luci sono sicuramente la capacità che la politica sta sviluppando di essere, come dicono gli anglosassoni, responsiveness, cioè responsivi rispetto agli elettori. Il consenso non è più sufficiente conquistarlo, bisogna saperlo amministrare nel corso del tempo. I lati negativi, gli aspetti più problematici sono legati alla teatralizzazione della politica, all'eccesso di mediatizzazione e al fatto che talvolta la comunicazione non è più solo forma ma è anche sostanza fino al punto di invadere in modo radicale e anche inesorabile persino il campo del marketing. La serata è stata organizzata da Rotary Club Andrea Castelli Svevi e dal distretto 2021 del Rotary Club in collaborazione con il Mondadori Bookstore. L'occasione per conferire a Francesco Giorgino anche il titolo di socio onorario del Rotary Andriese, un riconoscimento per i suoi importanti traguardi professionali che hanno dato lustro alla città. Di Andria è la prima sede in cui viene presentato il suo nuovo libro e io ci ho tenuto stasera ad averlo con noi per renderlo socio onorario del nostro club. Il Rotary purtroppo è un'immagine pubblica piuttosto carente e in queste manifestazioni dove soggetti di Andria noti a livello nazionale, direi anche internazionale perché Francesco è conosciuto anche all'estero, rendono solo pregio al nostro club di Andria.